MISTER GORBACHEV E non possiamo avere dubbi, l'operazione Desert Storm funziona. Vorresti negarlo? Ne abbiamo già discusso Che cos'altro vuoi, Livingston? Silenzio! Ha ignorato un ordine diretto, Marshall e ben sapendo che l'operazione era compromessa Col dovuto rispetto, signore, lei non era lì È il gruppo responsabile, questo Pantheon Sicuro che fossero loro? Questo l'ha confermato Araui Quando si deciderà a dirci come stanno davvero le cose? Qui faccio io le domande, Woods Se leggessi il rapporto Ho letto il rapporto, Arrow Non ho ancora deciso se crederci o meno Voglio risentire tutto per filo e per segno Però stavolta A raccontarlo sarà Marshall Partendo dall'inizio Eravamo in posizione vicino al confine Iraq-Kuwait Una squadra molto piccola Io Arrow Allaui è in anticipo Chiunque debba incontrare non si tratterrà a lungo Già Specie un contrabbandiere Ma scommetto che Allaui paga bene per fuggire dal Medio Oriente Questo non cambia niente Tanto lui verrà con noi Outlaw 42, visuale sul convoglio A quel bersaglio, passo Ricevuto terra, bersaglio confermato Al vostro via, passo Fallo Outlaw 42, attacco autorizzato Chiudo Andiamo a prenderlo Ricevuto terra Tacco in corso Intaserò un po' il traffico Il rapace Il rapace Il rapace Che ego Lui sarà al centro del convoglio. E ricorda, Livingstone vuole che lo prendiamo vivo. Capito. Barrage, va a punto di estrazione. Sì, sì, non preoccuparti. Cinque minuti. A laudia il ministro della difesa vicino a Sardà. I suoi saranno ben addestrati e armati fino ai dentro. Movimento, le portiere. Ricevo tu. Due bersagli a terra. Eccone altri, avanzate restando nel fumo. Presco sapranno che siamo qui, occhio. Nemici! Facciamo! In gas. Come on. E' un bersaglio. A laudia il veicolo nero, sgombrati la strada e trovatelo! Ok, veicolo nero. Va avanti, Kayser, trova a laudia. Riparatevi dietro il veicolo! Troi, hai visuale sul veicolo. Negativo. Allaui era il centro del convoglio. Avanzate lungo la strada. Ricevuto, lo troveremo. Allaogra, c'è. E' un'altra strada. Per andargli sulla strada. Vedo il veicolo di Alawi, in mezzo alla strada Con te Case, la portiera Alawi Ce l'ho Calmati, non ti faremo del male Chia? Avevamo un patto Un patto? Non con noi Dove andare? Col cara bugiardo, il vostro uomo l'aveva promesso Chi sarebbe? È il nostro? No, e neppure iracheno Pantheon, Pantheon Dobbiamo andarcene, non potete farcela contro di loro Non ci hanno visti, non devono farlo Andiamo Allora, fammi capire bene, Marshall Il gruppo che sostieni sia Pantheon Era una forza paramilitare, transnazionale e ben armata Praticamente sbucata dal nulla A questo punto, invece che attendere rinforzi, avete deciso di fare gli eroi Dovevamo agire in fretta Altrimenti non avremmo... A disobbedito, oppure no, agli ordini che gli avevi dato Sì, è così, ma date le tempistiche Come immaginavo, questo me lo sarei aspettato da te Ma non da te Signore, la nostra missione era recuperare Allawi con qualsiasi mezzo che fosse... Oh, lo so! Ma allora mi spieghi perché adesso si trova dentro un sacco all'obitorio? Le cose si sono... Complicate Chi è quella gente? In Pantheon ci sono ex operatori europei e statunitensi Non so chi sia il capo Ci bloccano l'uscita Chiediamo rinforzi e aspettiamo Aspettate! Scorri! Parash rispondi! Stiamo arrivando! No, siamo compromessi Allawi ci rallenterà Allawi starai con noi o con Pantheon? Verrò insieme a voi Cazzo, Troi Ottima scelta Gaze, iniziamo sfoltandoli un po' Cazzo, abbiamo da fare Cazzo, abbiamo da fare Ecco il nostro valco Non andiamo a partire Questi di Pantheon sanno combattere Andiamo al punto di raduno Assoldere il convoglio Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Ammiri il tuo capolavoro. Allora l'hai tenuto? Non tutti i ricordi sono delle cicatrici. Perché siamo qui a Roma? Perché voi sapete qualcosa. Mi spiegate che intenzioni avete? Volevamo andarcene da qualche parte. Sei una gita di piacere. Per staccare un po'. Sentite. Stavolta cercherò di pararvi il culo meglio che posso. Ma al prossimo casino che combinate. Sono cazzi vostri. Ricevuto. Ti devo un favore. Uno solo? Beh, direi dozzine. Fammene uno tu, Troy. Non farti ammazzare. Vedrò cosa posso fare. Sì. Sì. Grazie a tutti.